GF VIP, Daniele Dal Moro si confida con Antonella mi sembra di essere solo un giocattolo per Oriana. L'ultima puntata del GF VIP è stata molto movimentata, oltre alle liti e ai chiarimenti tra i geffini. C'è anche stata la squalifica di Edoardo Donnamaria per comportamenti scorretti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Oggi, venerdì 10 marzo, Daniele Dal Moro si è confidato proprio con l'ex chermitrice, le ha raccontato le sue sensazioni nei confronti di Oriana Marzoli. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono una delle coppie preferite dai fan del grande fratello VIP. I due concorrenti però, negli ultimi tempi si sono scontrati spesso e questo perché. Secondo la modella spagnola, l'ex tronista non le darebbe le giuste attenzioni e si sarebbe allontanato. Daniele pensa quindi, che a volte Oriana lo cerchi solo per un fattore esclusivamente fisico e lo ho detto anche ad Antonella, l'ultima volta che abbiamo litigato perché lei voleva andare oltre fisicamente. E io le ho detto di no, è andata a piangere nel suo letto e ad arrangiarsi da sola, te lo dico papale papale. L'ultima frase che Daniele ha utilizzato nei confronti di Oriana, non è proprio piaciuta ai fan su Twitter che hanno scritto, poi ieri squalificano Donnamaria. Senza parole oppure lui non meriterebbe una punizione. Grazie a tutti. Grazie.